ed eccoci qui eccoci qui finalmente alla parte delle conclusioni una premessa vi sarete resi conto anzi vi renderete conto scusate mi sarete resi conto vi renderete conto che io ho un attimo cambiato la struttura di quest'ultimo segmento rispetto alle puntate precedenti perché non utilizzo più la struttura punti di punti di forza poi punti deboli poi conclusione eccetera perché mi sembrava un pochino troppo schematica alla fine vorrei farlo un attimo più flessibile quindi andrò per grandi tematiche e all'interno di quella tematica vi dirò che cosa mi è piaciuta che cosa mi è piaciuto meno del gioco così anche penso che sia anche più più godibile per voi che l'ha ascoltata che non state lì ad ascoltare 15 minuti di roba che mi piace 15 minuti di roba che non mi piace e 5 10 minuti finali di conclusioni però appunto affrontando po trasversalmente gli elementi essenziali del gioco e allora cominciamo subito innanzitutto la resa storica la resa storica di questo gioco la resa storica è io sono rimasto assolutamente senza parole perché questo gioco rappresenta una vera e propria enciclopedia sulla battaglia di che ha nel libro degli scenari eccolo qua lo scenario book ok a 13 13 13 12 più un ipotetico che vanno dai singoli momenti con questo piccino molto vicino ovviamente a intere porzioni interali della battaglia a intere giornate a l'intera battaglia nelle sue tre giornate e con una ricerca sull'ordine di battaglia incredibile veramente maniacale perfetta non c'ho niente da dire tutto supportato da questa doppia mappona di barbara è il gioco definito su gettysburg non lo so però ci si avvicina veramente tanto sicuramente uno dei giochi definitivi su gettysburg quindi questo per quello che riguarda la resa storica lineare proprio dei dati la resa storica delle dinamiche assolutamente c'è la frizione l'imprevedibilità il caos e tutto questo è modellato in una maniera perfetta in tutti i suoi vari aspetti e non lineare al massimo perché c'ha tiri di dado su tabelle contro tabelle eccetera che veramente cambiano completamente l'attivazione in ordine casuale ma in mezzo succedono di a me sembra è come se fosse una specie di combat commander immaginate abbiamo parlato anche sul canale di combat commander però esteso a un'intera battaglia non soltanto uno scontro tra singole pattuglie a una battaglia campale solo che è anche peggio perché in combat commander voi alla fine della vostra manovra riuscite a costruire qui no perché le carte sono in un singolo mazzo che viene poi dopo da cui vengono pescate di volta in volta le singole carte sì vi costruite mano a mano una piccola mano con le carte hold ma nell'ordine che arrivano se le usate non le usate insomma non è assolutamente la stessa cosa ed è bellissimo ed è bellissimo fra l'altro il mazzo ha anche una bellissima progressione del mazzo per esempio il fatto che nei turni successivi man mano che le giornate vanno avanti si inseriscono queste che annullano attivazioni le fiction of war evoluono poi i singoli scenari fanno arrivare gente quindi entra la loro attivazione quindi diventa sì avete più gente benissimo avete più formazione attivare iea ma è anche più difficile attivare quella singola formazione quando vi serve nel momento esatto in cui serve perché magari prima potete attivare qualcun altro oppure attivate prima la formazione prima linea ma rinforzi stanno indietro insomma oppure attivate rinforzi vi fate avanzare ma nel frattempo non è stata attivata la formazione prima linea e l'avversario è riuscito a prendere le posizioni insomma tutta questa roba il problema il problema che ogni tanto tutta questa aleatorietà se fa sentire tanto 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 soprattutto nell'attivazione di questo quella divisione io nel gioco di piana ho avuto il problema che i rinforzi nordici sono arrivati subito mentre i miei suddisti non si muovevano manco a sparagli e questo ha generato una certa evoluzione che poi io attenzione che io ho sfruttato a mio favore perché tutti i nordisti erano tutti avanti impegnati così perché gli erano arrivati in forza io non riuscivo a sfondare da quella in quel punto ma si sono spostati così avanti che poi dopo sono stati colti di sorprese dell'arrivo alle loro spalle di juel e quindi hanno dovuto ritirare tutto indietro in tutta fretta e avevano una linea difensiva finale molto meno solida quindi anche qui l'aleatorietà spinge il gioco da una certa parte sta a voi e quindi ci potete fare poco per alcune cose sta a voi sfruttarla con un'altra sequenza delle carte invece magari sarebbe andato più vicino alla realtà storica quindi avrei avanzato di più con con i suddisti però i rinforzi nordisti sarebbero avanti più tardi però si sarebbero paradossalmente trovati in una posizione migliore per rispondere all'arrivo da nord del corpo di you and anche qui questo è da vedere però ecco ogni tanto tutta questa le autorità si fa sentire che cavolo adesso sì la potete la dovete gestire dovete correggere però può essere difficile non avete il controllo ecco questo ce l'avete ma è molto difficile però questo significa che la resa della catena di comando anche lì è magistrale perché veramente capite benissima difficoltà di far passare un ordine da un corpo da un comandante in capo a un corpo d'armata una divisione a una brigata a un reggimento lo vedete questo ordine arriva e non arriva insomma e poi magari quando arriva e l'ordine sbagliato perché rigido troppo rigido l'ordine di attacco mentre invece se direbbe uno di difesa uno di manovra mentre invece queste cose qua però l'avete dovuto dare perché serve anche tutto il resto della divisione quindi non siete riusciti a coordinare bene almeno voi vorreste coordinare bene il vostro comandante in quel punto non ha coordinato bene manco per niente wow quindi e questa appunto la gestione del comando è molto stratta molto bene nelle carte e nei vari tiri di attivazione per quello che riguarda anche qui invece nell'ambito delle dinamiche l'attaccante difensore l'attaccante un po' favorito quindi conviene andare ad attacco però attenzione perché le perdite sono sanguinose e le perdite contano per i punti vittoria in progressione geometrica cioè non è che se io ho perso una divisione e un corpo d'armata mi conta soltanto il punto di vittoria perché ho perso il conto il nemico l'avversario si prende il punto di vittoria per il corpo armato si prende il punto di vittoria per il corpo armata e per la divisione e per ogni singola brigata e per ogni singolo reggimento che ha che ha che ha eliminato quindi vengono contati più volte insomma le perdite si fanno sentire sempre nel momento del combattimento questa crt questa tabella che sembra tanto sembra tanto panico panico però è disaggregata tra perdite effettive tenute a morare mi piace da morire perché rende benissimo il fatto che i reggimenti dell'unione sono enormi teoricamente hanno un potenziale incredibile ma hanno una resistenza molto minore quindi tendono anche a darsi la gamba più facilmente mentre invece i reggimenti dell'unione magari sono più piccini però appunto hanno dei valori diversi anche se sono fragili rischiano poi dopo siccome sono meno effettivamente di rompersi una volta raggiunto un punto critico questo è reso alla perfezione altra cosa cresce molto bene gli assalti corpo a corpo sanguinosi come dovrebbe essere soprattutto se arrivate alla baionetta poi dopo ci sono i fire fight i close fight insomma i combattimenti i fuochi di controcrucelleria insomma è tutto quanto assolutamente giustamente imprevedibile bella anche la gestione del fuoco difensivo e dell'ingaggio avete visto prima come vi ho fatto vedere sul tavolo da una certa dimensione più tattica al tutto quindi con le truppe mandate a fare da schermo di copertura ad altre unità che vanno all'assalto per impedire che siano bersagliate a favore difensivo eccetera quindi veramente molto bello anche il fatto che sempre sulla gestione dell'attrito i recuperi dell'unità siano possibili anche se richiedono molto tempo in generale sono buone le asimmetrie come vengono resi tra due eserciti nell'ambito della loro struttura di comando nelle truppe nella qualità generale nelle condizioni di vittoria quindi questo è reso molto bene nell'ambito abbiamo detto questo per quello che riguarda le dinamiche però nell'ambito di una rappresentazione dei dati lineari delle informazioni specifiche come ordini di battaglia mappa e quant'altro perfetta veramente veramente c'è da fare una tesi di laurea sulla base partendo dallo studio degli scenari non sto scherzando e con una cartografia vabbè è paurosa per la sua credenza questo è il lavoro di una vita di Rick Barber che viveva vicino a Gettysburg ha fatto mappe di Gettysburg per tutta una vita e questa è la sua mappa definitiva di Gettysburg e si vede mi spiace non vorrebbe far vedere adesso non ce l'ho montata tutta tra l'altro ce l'ho montata soltanto una metà ma montata tutta è uno spettacolo che veramente apre il cuore di un appassionato di storia militare ma anche di un appassionato di storia dell'arte perché è un acquarello è incredibile è incredibile questo per quello che riguarda la resa storica andiamo a vedere il regolamento oh il regolamento all'inizio questo regolamento intimisce un po' perché è completamente diverso da un regolamento convenzionale ha tante cose tantissime cose però poi vi rendete conto che tutte le meccaniche anche quelle più diverse da un regolamento tradizionale hanno un senso la spiegazione l'editing e il presentazione delle singole informazioni è perfetta è graduale vi arrivano quando vi servono e capita che se se avete se riuscite a individuare e sono molto bene evidenziati i principi fondamentali i passaggi chiave tutto il resto tutto il resto l'estate un 80 per cento delle regole sanno attivate soltanto nel singolo momento che vi servirà quindi non dovete manco leggerle non importa che andiate a leggervi ogni singolo evento come viene gestito di una carta quali sono le singole procedure e sottoprocedure certo aiuta ma magari vi aiuterà per le partite successive per la prima partita voi potete tranquillamente leggere soltanto la parte delle procedure generali assolute tranquille e poi dopo attivare da vedere le singole regole mano a mano che vi che vi servono sostanzialmente se tenete conto che le leggete quindi anche meglio delle meccaniche che io ho esposto nel video sul tavolo potete tranquillamente già giocare senza anche se avete senza leggere nient'altro quasi attivando le cose mano a mano che vengono fuori con le carte tra l'altro con le tabelle tutto le attivazioni durante tutto molto infinito all'inizio però certo rischia di disorientare però veramente dopo 45 carte quindi metà turno diventa tutto intuitivo va tutto al proprio posto veramente io sono rimasto sorpreso temevo ma vi assicuro funziona tutto basta entrare in questo flusso scelgo la priorità delle divisioni crea il mio mazzo di carte pesco le carte applico le carte quando una carta mi permette di attivare qualcosa scelgo un ordine e poi applico l'ordine nell'ordine nella sequenza che è appunto che vi ho esposto tranquillamente tranquillamente o tutte queste carte rendono alla perfezione la frizione rappresentano sono una specie di cheat pool evoluto cioè proprio un'attivazione casuale di segnali ma invece che attivare solo il segnalino motiva questo e immaginate che su ogni segnalino ci siano le le singole veramente tutte le 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 istruzioni per perché cosa dovete fare per quel singolo per quel singolo evento o e questo deriva dal fatto questo l'ha detto l'artman c'è stato un appassionato del suo sistema che aveva fatto prima quello di a teni costa e del bar e swartz che aveva fatto una cosa del genere sulle carte su borghenghi che lui sa che c'è questa idea fantastica la utilizzo anche direttamente per il mio prossimo gioco ed eccola qua perfetto assolutamente perfetto quindi la resa finale il flusso del gioco è un flusso dinamico continuamente interattivo poi si spara ma attenzione che se sparata adesso ti spara con questa super unità però attenzione magari l'altro si ottiene la possibilità di sparati a sua volta te la ruina quella super super unità eccetera gli assalti dovete preparare perché c'è il fuoco difensivo quindi insomma molto bene l'unica cosa che di nuovo molti ma molti ma molti ma molti ma molti tiri di dado e ancora di più questo sì questo preparate anche se appunto questo sistema dei tre dadi insieme funziona benissimo senza senza problemi sa che lo utilizzerò anche per altri giochi che magari richiedono due tiri di combattimento quando si combatte c'hanno due sottofasi prima tirate due dadi poi ne tirate uno si tira tutto assieme poi si applica quello che serve e in generale ecco come esperienze di gioco preparatevi che sì vi può arrivare questo colpo di fortuna l'ultimo che vi fa prendere un ultimo colpo come è successo anche a piano una posizione sulla quale siete bloccati tre turni però vi dovete costruire quel colpo di fortuna e questo colpo di fortuna può arrivare anche l'avversario però il divertimento sta lì nel vedere anche un po' nella frustrazione di non riuscire a far muovere quella maledetta unità che ci vuole così poco per prendere una collina però questo successe a gettysburg anche chi ha visto i film i gettysburg lo sa benissimo per quello che riguarda altro punto l'accessibilità l'accessibilità beh allora il regolamento ripeto fa spavento se lo scaricate lo leggete dice oh mio dio questo è complicatissimo però è più elaborato e ricco e complesso sulle prime il tutto può sembrare un pochino fiddly qui lì cioè un po tante procedure sotto procedure modificatore robetta strana eccetera soprattutto nel fuoco le colpa a corpo c'è però di nuovo se fate un paio di giri lo vedete prato potete anche vedervlo su bassa c'è anche il modulo bassa quindi veramente fate due gioco due giri due e capite subito tutto quanto va tutto al proprio posto l'interfaccia è buona è molto buona perché sta tutto sulle carte le tabelle le cose eccetera e quindi è tutto molto ben presentato le carte sono belle l'unica cosa delle carte vedete qua che le carte cc activation le carte cobs activation e le carte cioè sono aspettate un po ecco qua le carte division activation sono tutte un pochino uguali una all'altra qui avrei avuto un simboletto diverso perché le volte faccio fatica a capire ma che cosa sto facendo questa carta la devo pescare non la devo pescare sì questa è l'unica cosa un pochino così però vabbè allora per quello che riguarda gli scenari gli scenari sono molto graduali quindi sono tra l'altro post alcuni scenari hanno diverse grande durate che potete decidere voi e questo cambia le condizioni di vittoria sono tutti molto variegati molti c'è un terrore quando c'è un gioco plurimappa o mio dio devo sempre montare due mappe no molti scenari non utilizzano una sola mappa o quella sud o quella nord questa è quella sud poi c'è anche quella nord c'è un unico problema che adesso non la vedete la faccio vedere la track dei turni eccola qua la vedete bellina esatto bene sta soltanto sulla mappa sud quindi se volete uno scenario in mappa nord o montate anche la mappa sud per avere quella track così bellina oppure ve la dovete fare in un altro modo e perché non avete messo una track uguale anche sulla mappa sulla mappa nord accidenti però vabbè molti scenari anche utilizzo solo una singola potenza questo utilizzo solo questa porzione qua della mappa della mappa sud quindi veramente sono ce ne sono alcuni evidente durano un'oretta ecco anche qui la durata è ampia e da un'oretta a due tre settimane di gioco perché la campagna in generale quindi veramente ho sempre altra cosa sul libro degli scenari molto bello fatto molto bene però vi faccio vedere una cosa che ho dovuto fare io e non avrei dovuto farla io secondo me vedete tutte queste segnacci qua queste sigle bene queste sono le sigle delle singole divisioni perché qui c'è il nome della brigata von gilza ma vale ricordarti che è della divisione br non mi credo più che sia bdr però è incidenti non c'è neanche il corpo d'armata quindi trovarle poi quando ce l'hai nel porta counter diventa difficile e vabbè questa è un'altra un'altra cosettina però vabbè questo altra cosa libro di scenari scenone di campagna è impegnativo ma non è possibile che altro è lungo però è molto bello anche con i turni è un'esperienza lo spazio sul tavolo al di là del discorso delle mappe dovete sono enormi già una mezza mappa è più grande di una mappa normale di un wargame ma duro 20 9 più che altro anche con questi display qua a lato si è un po tanto lo spazio è vero però diciamo ecco questi qua sono un po dei dei problemi abbastanza minimi in generale ecco ultima cosa sull'approccio chi già conosce il sistema blind swartz che è veramente molto questa è la derivazione del blind swartz su di una scala più ampia è ovviamente facilitato per attenzione non date nulla per scontato ci sono delle piccole differenze che sono anche evidenziate spesso avete un genio armandatman nel regolamento quindi andate tranquilli dice chi conosce il blind swartz si accorgerà che quest'ordine viene gestito in una maniera diversa attenzione bellissima e quindi è tutto il tutto appunto supportato da dei moduli vassal molto buoni che poi potete utilizzare anche con il print and play quindi non vi va di avere tutta quanta questa roba a casa non vi va di avere anche di spendere poi ne parleremo un attimino anche del prezzo e vabbè nessun problema vi prendete il print and play dove ci sono anche il libro degli scenari tutte le tabelle si possono scaricare però il libro degli scenari c'è tutto ma c'è tutto quello che serve giocare e vuoi giocare su bassa anche a distanza tranquillamente poi per quello che riguarda rigiocabilità e l'aspetto della rigiocabilità e anche la giocabilità in solitario beh allora sia entrambe sono estreme grazie a questo sistema delle carte che veramente vi rende ogni turno diverso dall'altro che in questo cheat pool evoluto io a me piace chiamarlo quindi non è semplicemente l'attivazione formazione anche l'attivazione di una formazione e anche di eventi con regole proprie ognuno spiegato sulla sua bella carta quindi tranquilli rende vedete nessuna partita sarà mai neanche neanche simile ad un'altra partita forse per un po troppo perché abbiamo visto prima ne parlavo prima la varianza importante però grande quantità di scenari diversi grande veramente grande ricchezza qui c'è da giocarci non scherzo c'è da giocarci per una vita su questo gioco assolutamente per il solitario l'abbiamo visto stavo c'è solo il dettaglio di un paio di carte che si scelgono segretamente inserendole nel fatto che non turno un giocatore conosce le carte old dell'altro l'altro no vabbè però tutta questa roba si può tranquillamente ignorare senza grandi troppi troppi problemi tra l'altro è un gioco a formazioni o più informazioni quindi si presta anche il multiplayer perché ognuno si sceglie il suo corpo armata quando arriva il corpo all'attivazione corpo armata si attiva con il corpo armata lì quindi anche per facile anche giocare multiplayer soprattutto magari nello scenario di campagna diventa con una bella esperienza per quello abbiamo detto ecco tornando invece agli aspetti l'aspetto relativa alla durata la durata abbiamo detto è graduale e gestibile alcuni scenari hanno orari finali a scelta eccetera però la battaglia completa di richiedere molto molto tempo lo dovrete sicuramente lasciare sul tavolo per la battaglia completa ma è solo un due scenari diciamo così su 13 quindi vedete altrimenti non giocare su vassal di nuovo ecco qua abbiamo visto che anche lo spazio sul tavolo effettivamente è notevole sol se si poteva fare qualcosina di meglio un po riunendolo alla parte della dell'accessibilità però vabbè ok funziona funziona lo stesso pazienza ecco diciamo è fatto per i tavoli delle case americane che sono notoriamente abbastanza grandi però per una convention un'associazione eccetera ma anche a casa e poi alla fine non è non è non è impossibile chiaro che stiamo giocando di un gioco veramente di un certo peso per quello che riguarda la componentistica le pedine la mappa io mi sto ripetendo ma sono bellissime le pedine sono molto leggibili senza troppi valori roba strana sopra la gestione dei marker colori dimensioni tutto è fatto bene le tabelle io vi consiglio di scaricare queste qua queste tabelle pagina singola dalla pagina della flying pig perché quelle che arrivano nel gioco sono fatte su più pagine sono un pochino difficile poi non ho messo nella seconda edizione saranno standard da queste tabelle qua però vabbè funzionano è non c'è non succede niente la tabella di terrenia davvero tante tipologie diverse gli effetti sono comunque intuitivi ma è perché un campo estremamente ampio quello di gettysburg è quasi un operazionale e effettivamente effettivamente c'è tanta roba diversa adesso fra l'altro quindi effettivamente vi dà assolutamente l'idea di com'è questo enorme campo di battaglia peccato questa cosa della tarotrack è quella storia delle sigle delle brigate delle divisioni accidenti a loro nel livello dei scenari che ce l'avrei messa ma per la semplice facilità di andare a trovare un counter all'interno del vostro porta segnalini paziente parlando invece del prezzo e nel rapporto prezzo contenuti prezzo c'è inutile che è questo coso va allegramente sopra i 100 120 una cosa del genere però è commisorato ai contenuti tra qualità e quantità qua c'è una marea di cose tranquilli che siete pronti a pagare 80 90 euro per della roba che oggettivamente ha molto 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 meno contenuto di questo quindi il prezzo tutto ci sta lo potete anche acquistare in gruppo è un ottimo acquisto di gruppo per esempio due o tre amici e poi ci si fanno i vari scenari di volta in volta l'opzione print and play anche molto allettante magari vi stampate solo che quello che vi serve per quel singolo scenario che volete fare oppure giocate tramite vassal utilizzando il materiale print and play ora c'è il kickstarter della seconda edizione che purtroppo in europa non spediscono però questo significa che cosa che saranno diventeranno riparibili diverse copie sia della prima edizione che della seconda e comunque si ammettono disponibili tutto il materiale per portare la prima edizione alla seconda edizione quindi tranquilli anche lì si può fare quindi come vedete sì c'è il suo prezzo ma c'è anche il suo valore ma soprattutto c'è la possibilità di di avere andiamo ora alle le conclusioni vere e proprie finalmente scusatevi sì mi sono un po dilungato ma veramente è un gioco bellissimo per me allora se volete un singolo gioco su gettysburg che ve lo faccia vedere proprio bene 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 secondo me è questo qua perché è un gioco po di dettaglio poi se volete un gioco più generico più ampio su gettysburg in cui sia un monomappa in cui magari sia a livello di divisioni va benissimo ne avremo altri su canale sapete che piacciono tantissimo anche a me sono più leggeri eccetera ma questo questa è una particolarità questo può essere definito un monster game sì visto le dimensioni e tutto ma solo per le dimensioni dei componenti e per le dimensioni degli scenari della quantità di roba solo in quantità a livello di qualità di complessità è semplice non è leggero ma non è neanche impossibile certo è molto diverso da un ex encounter tradizionale è inutile negarselo ma non è assolutamente impossibile è veramente accessibile è un monster che è accessibile e ha soprattutto questa gestione della frizione in cui non avete il controllo di tutto avete controllo di poco avete un controllo anche che mano a mano degrada bellissimo quindi dovrete trovare vie traverse per fare cose che sembrerebbero facilissime sembrerebbero scontate quindi fra l'altro qui la frizione non è che si risolve in un tiro di dado un attacco che doveva riuscire non riesce in un comandante che non si attiva perché avete fatto cinque anziché quattro sul tiro di dado quella vedete carta dopo carta vedete il comandante che impazzisce che che va in avanti da solo oppure che viene colpito e cade e quindi quell'unità per cui il turno non si muove perché c'è il colonnello che deve prendere il comando e c'è una la differenza tra l'appresentazione diretta e indiretta questa rappresentazione diretta perché lo vedete momento per momento ma è una rappresentazione diretta molto 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 semplice nella gestione non è difficile non è non avete tabelle su tabelle su tabelle su tabelle per scoprire che nel deserto fa caldo come il caffè in forno a stafrica per tanto per per dirci e per fare delle citazioni note un po' a tutti quindi è una rappresentazione diretta ma gestita molto facilmente siamo di fronte ad un gioco che è assolutamente un top di gamma in assoluto come tale va trattato fra l'altro è un gioco che vi da poi accesso anche tutta la serie blinds worlds con delle battaglie più o porzioni della battaglia sono anche su gettysburg delle serie blinds worlds non ha un strict attacks nei parenti anche su gettysburg secondo giorno di gettysburg che è uno scenario più e e quindi oppure battaglie di dimensioni minori oppure il sistema shattered union che sta arrivando che è un sistema così semplificato è un sistema ulteriormente semplificato quindi veramente vita è un top di gamma che vi da accesso anche ad un'altra marea di gioco veramente assolutamente bellissimo ok non è non è un gioco di tutti quanti riusciranno ad avere per prezzo spazio eccetera però avete tante opportunità diverse avete print and play avete la capacità di acquistare il gruppo potete giocare su vassal con il print and play con il materiale che vi sarete acquistato insomma ci sono tante cose è inutilissimo già così è uscito da pochi mesi ed è già un classico è assolutamente io lo considero già un classico sono proprio dritto nella spalla di video nella 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 cosa per essere un classico assolutamente ma l'hafman e fredman hanno fatto tutte quante la loro squadra hanno fatto un lavoro eccezionale e anche il compiato rai barber che ci ha regalato questo vera e propria questa vera e propria opera d'arte io aspetto di vedere i prossimi della blindswords i prossimi della shatter union eccetera che saranno su mappi piccole con meno segnalini quindi molto più accessibili proprio più gestibili praticamente perché poi come complessità delle regole stiamo lì nessun problema ma aspetto di vedere speriamo che ci sia speriamo questo sistema su altre grandi battaglie antitem c'è cellosville altre grandi battaglie regole civili è un gioco bellissimo vale la pena di verlo sì vedete se riuscite a procurarvelo perché veramente non me ne pentirete questo era a most fearful sacrifice io vi saluto vi auguro buon divertimento ci vediamo alla prossima prossima puntata sempre con dei classici nuovi classici come questi e come sempre tornati niente paura sono solo wargames ciao ciao ciao